Silvio, tra i 19 possiamo dire che è una profonda riflessione sulla solitudine, che è una delle piaghe odierne? Per me non è tanto la solitudine, il centro del film, ma il cambiamento, forse anche la rinascita, nel senso che quest'incidente che coinvolge la protagonista Camilla la porta a fermarsi, rimane sdraiata sull'asfalto sotto la pioggia di notte, con mano al braccio cane, eccetera, e dice, oddio, cosa è successo? E da lì in avanti diciamo che la sua vita cerca di continuare come prima, ma non ci riesce, c'è qualcosa che le impedisce di essere quello che è prima e quindi inizia questa indagine che la porta sia nel mondo esterno, la porta a entrare in contatto con persone che non avrebbe mai conosciuto, luoghi, ma allo stesso tempo diventa anche un po' un'indagine, va in cantina, ritrova questo scatolone in cui ha buttato dentro un po' di cose di quando era un adolescente, prima di arrivare a Milano e studiare, poi lavorare, 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 e scopre delle cose che non aveva, scopre di non aver chiuso, di non aver chiuso tutta una questione che riguarda la sorella, che in qualche modo ha a che fare con la sua identità ed era rimasta in sospeso, quindi è abbastanza complesso come percorso. Mi sembra che il personaggio di Camilla sia stato scritto perfettamente sulle corde attoriali di Casia. Cosa le hai detto la prima volta che l'hai vista a proposito del personaggio? Ma in realtà non l'avevo scritto per lei, non so bene perché mi capita di rado di scrivere un personaggio già sapendo chi è la protagonista o il protagonista, però poi arrivati al dunque bisogna decidere chi è la protagonista e quando ho fatto il provino a Cascia ho capito che lei aveva qualcosa di molto vicino a questo personaggio, e soprattutto un modo di porsi con una forza, con una capabilità che è proprio suo. Però ho bisogno anche che facesse poi tutto un percorso, questa era una partenza, no? Perché queste persone, gli avvocati d'affari, donne, si ritrovano a combattere in un mondo di soli uomini e lì devono saperlo fare, devono veramente farcela. Però diciamo che volevo portare un personaggio del genere a scoprirsi, ad aprirsi, a ritrovarsi, ritrovare una parte di sé che non ha, che aveva forse seppellito. 13-19 è anche una riflessione sul tempo. Come si scende a passi con questo elemento? Non è semplice perché siamo abituati a essere un po' stritolati dagli ingranaggi del tempo lavorativo, a volte veramente non ci si rende conto di quanto si è nell'ingranaggio e per tirarsi fuori credo che ci vuole proprio un momento di stacco. Per questo è importante a volte quando avvengono anche delle piccole cose, dei piccoli malesseri o delle cose anche fisiche che ti bloccano per qualche giorno, una settimana o due, in un letto da qualche parte, eccetera, fare anche, oppure quello che è successo a tutti noi durante la pandemia. Quello è stato un momento in cui per molti è diventato anche un momento di riflessione, perché se ne eravamo non potevamo fare altro. Il tempo all'inizio del film è un tempo turbinoso, è una specie di centrifuga in cui il personaggio di Camilla abita ed è molto lontano dal tempo della fine, nel finale del film, in cui diventa un tempo in cui prendersi cura anche della persona con cui si è, nel caso di sua figlia e in cui si è capace di soffermarsi su quello che si dice, su quello che l'altro ti sta dicendo. Grazie, grazie Silvio.